Il ragazzo era un giovane che aveva bisogno da subito di un supporto psicologico perché era emotivamente fragile e i detenuti che erano in quel reparto se ne erano accorti da subito. Era forse una morte che si poteva evitare, quella del giovane marocchino ritrovato senza vita in una cella la mattina dello scorso 12 gennaio ne è convinto un gruppo di detenuti nel carcere di Brindisi che ancora una volta carta e penna ha scritto alla redazione di Antena Sud descrivendo quello che accade nella casa circondariale di Viabbia, meglio quello che accadrebbe. Come già spiegato in passato l'impossibilità per noi giornalisti di visitare il carcere rende complesso praticamente impossibile verificare la vernicità di quanto contenuto anche nell'ultima missiva datata 13 gennaio ovvero il giorno dopo il tragico avvenimento. Eppure scrivono i detenuti solo 5 giorni prima la morte del marocchino detenuto per essere stato sorpreso su un mezzo pubblico senza biglietto sempre nella sezione di isolamento un altro ragazzo avrebbe tentato di farla finita utilizzando i lacci delle sue scarpe. Avrebbe perso i sensi per poi essere condotto in ospedale. Salvo per un pelo scrivono i detenuti che precisano come non si tratti di casi isolati ma all'ordine del giorno. Colpa si legge nella lettera di una situazione evidentemente complessa tanto sotto l'aspetto psicologico quanto logistico che il carcere di Brindisi sia sovraffollato e fatto noto e non superabile in quella struttura. Definita vecchia e fatiscente specie nella sezione di isolamento dove spiegano ancora i detenuti vi sarebbero le finestre con le bocche di lupo e ancora nella missiva si fa riferimento alle difficoltà legate all'isolamento durante l'emergenza sanitaria. Chi è positivo finisce isolato da tutto e da tutti e ci chiudono anche lo spioncino scrivono i detenuti. Chiediamo che questo scritto venga letto, si chiude la straziante lettera in modo che quella vita spezzata abbia giustizia.